Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento dedicato al tema dell'alternanza scuola-lavoro. Questa sera con noi c'è il dirigente dell'Istituto Don Bosco, il professore ingegner Michele Lauriola. Benvenuto, dirigente. Grazie, grazie a voi per l'invito. Come sa abbiamo lanciato questo format, questo impegno anche da parte nostra nei confronti dell'alternanza in vista di un appuntamento del prossimo 25 ottobre in Camera di Commercio dedicato a questo tema. Alternanza scuola-lavoro che è stata introdotta, ricordiamola per i nostri ascoltatori, con la legge 107 del 2015 e che progressivamente ha coinvolto tutti gli studenti fino al quinto anno. Che esperienza è stata l'alternanza scuola-lavoro pensando proprio all'Istituto Don Bosco? Un suo feedback, professore. Sì, allora diciamo subito che nel mio istituto è da più di una diecina d'anni che abbiamo iniziato a fare esperienze di questo genere. Quindi prima della legge 107. Abbiamo salutato con grande piacere il fatto che il governo avesse messo un percorso di questo tipo. Il riscontro che posso dare è molto positivo. Noi siamo contenti dell'esperienza fatta, abbiamo messo in campo tante energie, però ci sembrava giusto. E abbiamo realizzato dei percorsi distinguendo e cercando di venire incontro alle diverse realtà liceali, ma anche di istituti tecnici, con il territorio, con le università. Per cui siamo davvero contenti e continueremo su questa strada. Cito l'ultima esperienza fatta da un nostro studente selezionato su tre in tutta Italia al CERN di Ginevra. Allora io credo che quando si mettono in campo esperienze di questo tipo non si possa che rimanere estremamente soddisfatti. Un ragazzo straordinario che è tornato con entusiasmo a raccontare ai compagni e quindi dando voglia, motivazione, quindi creando un clima scolastico molto molto motivante. Citando ancora altre esperienze con le università del territorio, Verona, Padova, Trieste, Brescia con il Politecnico e anche con la Cattolica. Ecco, tutte realtà che ripeto hanno dato grandi soddisfazioni. Anche sul territorio abbiamo cercato contatti con imprenditori e direi fatta qualche eccezione il bilancio è estremamente positivo. Tema dell'alternanza che è tornato di estrema attualità perché qualche settimana fa il Ministro Marco Busetti, Ministro dell'Istruzione, ha annunciato che proprio questo strumento subirà molto probabilmente un ridimensionamento sia dal punto di vista orario che dal punto di vista anche del budget che è stato investito. Quindi da 100 milioni a circa 50 milioni e poi una riduzione significativa per i licei da 200 a 90 ore e per gli istituti tecnici da 400 a 150 e istituti professionali da 400 a 180. Cosa ne pensa di questa mini riforma che è sul tavolo? Ma noi non siamo tanto contenti di questa riforma, nel senso che vogliamo continuare e vogliamo potenziare questo tipo di esperienza. Naturalmente comprendiamo anche le difficoltà perché è indubbio che bisogna destinare risorse non solo economiche, perché anche gli insegnanti è un fattore importante per la buona riuscita. I ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati in questa esperienza, quindi la presenza di un docente che vive in rapporto con l'azienda, con l'università, con chi si fa questa alternanza, è determinante per la buona riuscita. Quindi pur comprendendo le difficoltà che vengono da un'esperienza di questo tipo, sul ridimensionamento noi pensiamo che lo faremo, ma continueremo anche a dare la possibilità di mantenere un tetto molto più alto per i ragazzi e di poter fare un'esperienza significativa. Quello che mi auguro è che nella scuola, in modo particolare, ci possa essere una convergenza a livello politico nel fare delle scelte che non siano di lunghissimo termine, ma neanche di brevissimo termine. Ci vorrebbe un po' di condivisione di alcune linee strategiche e a nostro avviso questa potrebbe essere una di quelle significative da mettere in campo per consentire un miglioramento del rapporto, del legame tra la scuola e il mondo del lavoro. Mondo del lavoro che lei conosce molto bene perché prima di diventare dirigente, quasi 23 anni fa, proprio dell'Istituto Don Bosco, è stato imprenditore, ha lavorato in azienda e conosce molto bene le dinamiche aziendali. L'alternanza è utile anche per gli imprenditori, anche se non è sempre facile inserire gli studenti in azienda. È proprio così, le realtà aziendali hanno anche loro molte urgenze, ci troviamo poi in questo momento storico particolarmente difficile per l'economia, per la finanza e quindi anche per loro destinare delle risorse è estremamente difficile. Però stanno cominciando a capire che è un elemento importante per creare un contatto, un raccordo e quindi per consentire poi un proficuo inserimento di un giovane diplomato o laureato all'interno della realtà imprenditoriale del territorio. Auspico che anche in questo senso possano venire dei provvedimenti legislativi che aiutino gli imprenditori anche da un punto di vista di normativa, di regole, perché una delle difficoltà, tanto per citare una banalità, e che loro hanno avuto come riferimento in questi tre anni, il fatto della formazione per esempio sulla sicurezza, delle responsabilità di che cosa si può fare con uno studente all'interno della realtà imprenditoriale e lavorativa. Ecco, tutte queste cose vanno un po' snellite, vanno un po' aiutate anche con provvedimenti legislativi che vadano ad aiutare l'imprenditore, non a complicargli la vita, perché se no il momento è già difficile. Se poi la parte normativa complica ancora di più, il motivo diventa evidente, l'imprenditore preferisce badare ad altro. Certamente. Entriamo invece nella vostra realtà, la realtà del Don Bosco. In cosa si distingue il sistema educativo salesiano rispetto ad altri? Ma io la cosa che anche qua la riprendo proprio dal feedback dei ragazzi sull'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, nel nostro sistema, nella nostra idea di scuola, l'insegnante è un accompagnatore, è un compagno di viaggio, e quando i ragazzi sentono che c'è accanto un compagno di viaggio, ecco che allora si può fare la differenza all'interno delle aule scolastiche, non c'è più la necessità di sbizzarrirsi in tante questioni, in tante storie, no bullismo, non bullismo. Cioè i ragazzi sono motivati, vedono una persona più adulta che li sta accompagnando, li motiva. Ecco, questo è direi il nostro segreto, questo è quello che vorremmo condividere come esperienza, anche per altre realtà educative del territorio e nazionale, un'esperienza che vede il giovane accompagnato nella sua crescita da un educatore adulto, una persona significativa, direi una parola grossa dicendo un maestro che si mette accanto al suo discepolo e piano piano lo accompagna. E quando poi riceviamo un feedback di questo tipo, direi è la più grande soddisfazione che un insegnante ha nel mondo della scuola. Tanto vituperato, tanto distratto, tanto poco considerato dalla società, ma alla fine quando un ragazzo ti dice un grazie perché gli hai fatto fare, nell'esempio, un'esperienza di alternanza scuola-lavoro significativa, ecco ha un prezzo impagabile, una grande soddisfazione, una grande motivazione a ritornare ogni mattina nelle aule scolastiche con grande forza, con grande determinazione. E chiudiamo con una novità che riguarda la vostra scuola, il vostro ventaglio di offerta formativa è ampio, da quest'anno avete inaugurato anche il percorso del liceo linguistico, come siete arrivati a questa scelta e insomma è una tappa importante anche per la vostra scuola? Sì, direi la scelta è stata determinata dal filone, da uno dei filoni che stanno vedendo impegnato il nostro istituto nel mantenere al passo dei tempi la scuola e cioè quello dell'internazionalizzazione. Ecco, sempre di più vediamo la necessità di far uscire i nostri ragazzi in esperienze significative e abbiamo voluto approfittare della realtà del liceo linguistico ma anche delle altre in collegamento con le scuole salesiane nel mondo. Ecco e anche qua abbiamo la fortuna di avere a disposizione un network internazionale per cui per esempio abbiamo contatti con l'Australia e ci sono ragazzi che dalla nostra scuola vanno in periodi di formazione in scuole salesiane dell'Australia e questo fa una differenza a livello di maturazione umana, di motivazione ma anche di crescita globale perché tornano io li vedo soddisfatti, contenti anche di conoscere un mondo che può essere così lontano e così distante da noi. Quindi il linguistico ci aiuterà avendo scelto alcune lingue europee, l'inglese ovviamente il tedesco, lo spagnolo e poi ci abbiamo messo il cinese con un insegnante di madrelingua quindi pensiamo di dare un valore aggiunto in questa direzione. La nuova frontiera ovviamente parlando anche di mercati sicuramente è la Cina. Benissimo ringraziamo allora il professore ingegnere Michele Lauriola, preside dell'istituto Don Bosco per questa bella chiacchierata e in bocca al lupo per il proseguimento. Grazie, grazie a voi.